Buongiorno a tutti voi e ben ritornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo un microscopio stereoscopico da 20 ingrandimenti. È fornito con luce LED, pesa circa un chilogrammo ed è facile da trasportare, quindi può essere utilizzato anche all'aperto come microscopio da campo. È perfetto per osservare minerali, fossili, insetti, pietre, fiori. Trova comunque impiego anche nel settore della numismatica per osservare carte e strutture piane e anche in meccanica eppure in elettronica per effettuare delle saldature. Vediamo la regolazione della messa a fuoco, si può modificare anche la distanza interpupillare. Si tratta di un buon microscopio per iniziare ad osservare la natura o anche manufatti umani. Buone osservazioni e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti voi.